Ciro Traniguchi Collection Round 2 e in questo caso con Blanca abbiamo una delle opere più famose dell'autore in uno di quei generi che poi diventerà per l'autore stesso appunto distintivo carissimi amici lettori, amanti dei fumetti benvenuti a questa nuova video recensione e come promesso siamo a proseguire le recensioni inerenti la serie della Taniguchi Collection come promesso appunto siamo al secondo volume secondo come ho detto in ordine cronologico originale delle uscite e non secondo quello delle uscite in edicola questo perché come sempre lo rivalisco mi piace affrontare un'intera collana che sia di un autore, che sia di un'opera eccetera andando sempre in ordine cronologico invece in edicola, nelle serie eccetera va di moda quello di scompigliare l'orni eccetera probabilmente per questioni commerciali o d'altro e quindi appunto capita che questo che qui penso sia verso l'ottavo numero in realtà di tutti i numeri pubblicati in questa collana era appena il secondo 1984 e in questo caso abbiamo a giro Taniguchi non solo ai disegni ma anche alla sceneggiatura e essendo sia disegnatore che autore vedremo qui uno dei temi che prenderà piede poi per la maggiore nelle sue opere inerenti appunto la natura la natura incontaminata, le montagne e i cani e gli animali il rapporto con gli animali dell'uomo e in questo caso appunto i cani perché li vedremo spesso raffigurati probabilmente anche lui aveva una passione immagino bel tomone 560 erotte pagine 560 pagine e originariamente mi sembra fossero stati pubblicati in due volumi qui invece ovviamente l'ha messo in un solo volume quando ho iniziato a vedere che questa appunto collection a prescindere dal grandezza del volume anche questi da 560 pagine li metteva sempre a 9,90 euro poi come vi ho detto io sono uscito poi foratamente a trovarli appunto a meno più della metà della collezione a 5 euro qualcosa quasi 6 euro quindi ho detto mi è sembrata veramente un'occasione immancabile per effettivamente scoprire quest'autore che avevo sempre solo intercettato su cui avevo tante volte riversato alcuni dubbi per via delle opere quali dubbi in particolare se voi sfogliate a volte certi suoi albi avete queste bellissime tavole magari questi scenari incontaminati questa sua capacità appunto di disegnare gli animali la natura eccetera ma molte volte questo tanto bel disegno tanto paesaggio tante cose ma magari uno dice c'è poca storia in questo caso in parte è vero ma in parte è vero anche che anche la storia prende buona parte del complesso delle pagine insomma quindi già uno delle prime timori che avevo nei confronti di in parte direi che qui è stato abbastanza mitigato ma prima di andare a dare un giudizio complessivo su quest'albolo dirvi se ve lo consiglio oppure no direi di andare nello specifico a settare i parametri di quello di cui parla in modo tale da ambientarci un attimo e capire la situazione Blanc è un cane di razza non esattamente specificata ma simile ai cani giapponesi tipo Akita è un cane il cui padrone era uno dei più stimati scienziati esperti di biogenetica egli è stato rapito assieme al cane per condurre su di questi degli esperimenti e farlo diventare un'arma da guerra eccezionale suo malgrado lo scienziato si vedrà costretto a sottostare al volere della nazione che lo ha rapito e Blanc diventerà così un cane di impareggiabile forza e dalle d'auto atletiche sensazionali grazie al suo padrone riesce però a fuggire e partirà da quel momento il suo viaggio verso casa peccato che la sua casa sia New York e che il suo padrone lo abbia liberato in Siberia ma superando lo stretto di Bering attraverserà l'Alaska e continuerà il suo viaggio anche attraverso il Canada braccato però da coloro che lo vogliono riacciuffare prima che cada in mano al nemico o che la scoperta di questo esemplare faccia scattare qualche scandalo politico internazionale da prima affidando l'incarico a qualche cacciatore locale per poi impiegare mezzi sempre più attrezzati numerosi verranno mobilitati fior fior di uomini ed altri cani addestrati per cercare di intercettare Blanca ed abbatterlo ovviamente l'obiettivo di Blanca è semplicemente scappare e raggiungere casa ma essendo addestrato come cane da combattimento non si farà problemi ad uccidere e eliminare ogni elemento che minacci la sua vita in mezzo a questo viaggio ha anche le vicende di chi lo incontra e dopo averlo conosciuto non riesce a sottrarsi al suo fascino vorrebbe studiarlo, forse ucciderlo perché ha ucciso alcuni suoi amici ma poi entrando in empatia con il cane alla sua missione ne comprenderà l'animo allora è una storia quindi molto inerente appunto il rapporto tra uomo e animali, uomo e natura e di come questo possa essere a volte per le ambizioni dell'uomo e i suoi scopi alterato in maniera purtroppo catastrofica, purtroppo come in questo caso drammatica ed è un tema che appunto si svolge per buonissima parte in termini scenari naturali appunto incontaminati in questo senso non ho appunto sofferto questa cosa degli spazi eccetera ho sofferto forse più il fatto che prendesse tanto tempo la narrazione per descrivere questi passaggi di questa fuga di questo cane in continuazione riprendeva a livello cinematografico me lo immaginavo molto bene allo sfogliare delle pagine continua e continua e continua con la stessa situazione sì ovviamente il setting cambiato e più forze personaggi diversi ovviamente tante però ogni tanto soprattutto visto che la mole 560 pagine qui e là ho forse anche perché avevo questa voglia di asfaltarmelo in fretta di leggermelo in fretta ho sentito un po' non la pesantezza del tema ma perdonatemi però il non stravolgere non fare un passo netto e completo verso un stravolgimento della storia un passaggio netto cambiano tanti aspetti ma bene o male dall'inizio alla fine questo viaggio che hai una fama incredibile di sapere come si concluderà ma appunto per buona parte dico in maniera in cui ti aspetti però sai come andranno le cose visto quanto è la durata e chi è il protagonista appunto è comunque una storia toccante in particolare per chi come me sono un amante dei cani come animali possiedo uno e quindi sì sono molto sensibile a queste cose vero è che quanto sono sensibile altrettanto proprio davvero appassionato posso essere critico in questo caso perché voglio parlare di qualche criticità a volte mi capita questo di sottolineare le criticità quando in realtà ci sarebbero tanti aspetti stupendi a livello di opera di cui parlare qui all'interno perché veramente è un'opera dalla scrittura e dal messaggio ma anche dalla sceneggiatura tutto sommato che porta veramente tanto è veramente interessante sotto tanti aspetti tant'è che se lo divolata così in fretta già quello è un segno però io a volte in questi casi da appassionato il mio occhio proprio come dire si sofferma pesa in particolare su un aspetto che magari altri non ne hanno dato un minimo caso di che cosa sto parlando? di come la raffigurazione in questo caso ok soprannaturale di questi cani e di questo cane in particolare di Blanca mi abbia fatto più volte storcere il naso ok che non è un cane normale ok che può avere di poteri particolari però il modo in cui questo combatte attacca gli umani a queste determinate mosse è talmente fuori di senno nel senso che anche come viene rappresentato è talmente innaturale che rispetto a tutto il resto alla purezza alla fedeltà di rappresentare tutta questa natura compresa appunto eventualmente anche il cane questo mi ha adorare un po' il realismo mi ha fatto storcere il naso cosa intendo allo specifico? beh quando Blanca attacca in parte lo vediamo proprio qui ha sugli uomini che gli sparano, lascia stare che ha una velocità inusitata lascia stare che ovviamente è instancabile se fa delle ferite sono dei graffi rispetto a quelle che potrebbero essere mortali per altri cani eccetera ma va addosso agli uomini, si avventa su di loro così inizia un salto inizia a molleggiare questa sua cosa proprio in questo caso tipo uno scenario all'holle badge in cui appunto per fare il campo ci mettevano delle ore ecco lui si lancia in questi voli pindarici molle come fosse una gravità zero sulla luna e poi appunto talmente veloce che il primo quasi sempre lo sgozza così con che cosa? è Wolverine? ha gli artigli? no gli arriva di muso, di faccia e però lo sgozza così ma detto è proprio come una sciabola e tu dici vabbè lo sgozza una volta, due volte, tre volte gli altri a malapena gli si avventa pochi gli si avventa il collo ed effettivamente li uccide schiacciandogli la giugolare provocandogli questa ferita soffocante e deflagrante ma veramente alcuni proprio come un samurai, un cane samurai ecco in una storia così appassionata per una storia di un cane così seguita come con certe cose che sembrano molto un realismo trasfigurata consentitemi il termine dalla parte di azione che si doveva essere incredibile si doveva essere qualcosa di soprannaturale effettivamente alla fine coinvolge in maniera io l'avrei lasciata meno spalata l'avrei fatta meno spalata l'avrei fatta meno samurai style e secondo me ne avrebbe giovato opinione personale chi sono io per carità però è la prima delle critiche che dall'inizio fino alla fine in tutte le parti in cui seguivo ho sentito di fare un po' anche unito a questo design di questo cane che appunto in tante scene si vuole essere realistico però non sempre mi dà la sensazione del cane reale il vederlo è così con tutto il pelo che si aggrottaglia gli si aggrottaglia addosso gli fa tutte queste cose che volete che vi dica non mi ha dato questa sensazione come di stare vedendo effettivamente un vero cane in azione è difficile o non è difficile poi ecco guardate i salti che fa tipo da satellite dall'alto che gli piomba addosso questi non riescono neanche a sparare di tante veloci ma vabbè prima critica è un po' il realismo seconda critica il finale il finale è quando tu ti aspetti passi 560 pagine voler arrivare a questo finale che ti si monta di aspettativa con questo cane che fugge che fugge gli altri che lo inseguono incontra quelli poi ancora lì e fugge lo feriscono però lui riesce a sopravvivere ancora fugge e corre, corre, corre ti si crea questa tanta aspettativa ti monta questa tanta aspettativa che il finale quando viene risolto in poco in pochissimo spazio e senza secondo me la giusta empatia emozionale di quello che avrebbe potuto restituire veramente una cosa di un lampo e poco più non ti rimane forse dentro quanto avrebbe meritato come ho detto questi sono un po' gli aspetti critici non vorrei però che vi passasse che Blanca è un cattivo fumetto forse le abbiamo messe da parte adesso gli aspetti critici e vi dico che 560 pagine tale è scritta bene secondo me anche ritmata discretamente bene appunto la sceneggiatura che sono manovolate proprio una fame di proseguire di vedere come andava avanti il fumetto che è un segnale distintivo del fatto che insomma ti preme molto ti lega molto alle vicissitudini di questo protagonista e anche dei coprotagonisti in particolare ovviamente quelli che empatizzano con lui non tutti subito alcuni anzi prima vorrebbero vendicarsi con lui poi ne comprendono la vera natura comprendono l'eccezionalità di questo animale e il suo spirito la sua anima racchiusa dentro questo diciamo corpo questo involucro da arma fatale e allora vorrebbero chi per scienza chi per animo chi per gli svariati motivi sta vicino di più comprenderlo di più eccetera eccetera e quindi è molto molto appassionante anche seguire le gesta di chi hanno poi avuto a che fare attorno a questo animale con questo animale quindi anche le vicende dei vari coprotagonisti sono molto apprezzate c'è dalla addestratrice militare che lo ha addestrato che quindi nutre un sentimento come inevitabile che sia dopo che è stato tanto a contatto e è entrata in sintonia con l'animale di un legame un sentimento non dico di amore ma profondo che la lega alla vita di questo animale e al contempo però è la consulente è un soldato e deve rispondere ai superiori come soldato che gli chiedono come poter meglio sopprimere questo animale e lei deve rispondere anche come soldato quindi questa bella dualità interiore questo conflitto anche interiore che deve essere vissuto all'interno anche mostrato abbastanza bene senza stravolgimenti senza esagerazioni ma bastano poche immagini poche inquadrature e comprendi quello che un personaggio sta un po' provando e ribadisco per fortuna lo sapete un motivo per cui alla fine mi sono deciso mi sono lanciato sul giro di Tannigucci che finalmente è un autore 6 nel 100% e non 70-80% cioè trame situazioni che vanno bene sì per adulti sono magari sconsigliate a un pubblico giovane poi però hanno un linguaggio a tratti infantili con quelle classiche mossette da 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 shonen da manga per ragazzini con tutte le faccette lolle ridenti o la lacrimuccia che gli scende addosso che fortunatamente da a meno da come ho iniziato e da come mi è stato inquadrato di Tannigucci ed oggi sono completamente miscerate sono prive di questi aspetti e quindi un vero e proprio autore di quelli atti al realismo come piace a me è un manga pieno di aspetti ovviamente chiaro che tratta molto il tema della natura tratta molto il tema degli animali dell'uomo con gli animali quindi se proprio siete al 100% avulsi e anzi queste magari aspetti vi sembrano un po' melenzi o non avete che fare con il vostro gusto posso capire che non sia l'opera perfetta detto questo è anche vero che lo si può trovare in giro dato questo rapporto prezzo quantità e qualità al di fuori della collana intera di Giro Taniguchi se si trovasse comunque in giro adesso non ho guardato su ebay eccetera ma a 9,90 il suo prezzo di copertina è strinsecato dalla serie anche solo la prova ne varrebbe secondo me la pena perché comunque a livello di disegni la qualità di Giro c'è tutta e siamo nel 1984 quindi comprendete anche che c'è un certo tipo di tratto se vogliamo è moda del tratto anche un po' adattato e nonostante questo risultano non si fa sentire questo peso almeno veramente pochissimo in questo album quindi apprezzato questo album mi è piaciuto non lo faccio non lo faccio per i difetti che ho soprannominato un capolavoro un capolavoro assoluto non lo so forse ai tempi sarebbe potuto essere preso per la scena che c'era quel tempo come capolavoro per i difetti che gli ho rintracciato non mi sento di descriverlo come tale una buona opera con dei buoni messaggi con della buonissima scrittura debilissimi disegni ma con dei difetti che appunto gli impediscono secondo me di assurgere a capolavoro da leggere a prescindere vale la pena ma adesso come ve l'ho descritto sapete se affrontarlo oppure no se non conoscete Giro Taniguchi o se la cosa vi incuriosisce detto questo ovviamente quindi ci si vedrà al terzo prossimo che non ho guardato scusatemi qual è in ordine cronologico però quello è l'ordine che io tengo se mi interessa appunto affrontare assieme a me la disamina di tutti questi volumi della Giro Taniguchi iscrivetevi e seguite i prossimi video che usciranno in futuro con questo è tutto io vi saluto ciao da Vap